se fino a ieri condurre una vettura cabriolet a cielo aperto riservava tanto piacere ma anche un certo spirito di adattamento la nuova mercedes classe cabrio sembra aver annullato quasi del tutto le fastidiose conseguenze derivanti dal non avere un petto sopra la testa anche con un clima non proprio estivo la cabriolet tedesca permette infatti di assaporare il gusto della guida a open air senza correre il rischio di beccarsi il raffreddore o il torcicollo a proteggere il conducente passeggeri provvedono tutta una serie di dispositivi quale l'air cap o l'air scarf che pongono a riparo l'abitacolo dai flussi d'aria fredda provenienti dall'esterno e mantenendo un clima ideale anche con le temperature più basse in caso di pioggia poi sono sufficienti 20 secondi per chiudere anche in movimento fino a una velocità di 40 km orari la capote ben insonorizzata la classe cabriolet robustita nella scocca nei montanti anteriori ripropone su strada lo stesso handling sportiveggiante del modello coupé da cui deriva di intonazione decisamente sportiva anche il grintoso turbodiesel v6 di 3 litri a basse emissioni blue efficiency che garantisce un'eccellente progressione fino ai regimi più bassi ed una elevata elasticità a quelli intermedi in grado di sviluppare 231 cavalli e 540 nm di coppia disponibili già a 1600 giri questo provusore permette alla cabrioletta tedesca di raggiungere i 250 km orari in velocità massima e di scattare da 0 a 100 in soli 6,9 secondi è copiato ad un cambio automatico sequenziale a 7 rapporti gtronic che assicura tempi di cambiata rapidi e questo v6 che equipaggia la classe e cabrio 350 cdi si accontenta in media di 7 litri di gasolio ogni 100 km e presenta emissioni di co2 contenute a 185 grammi per km il passo lungo l'ampia carreggiata e la perfetta ripartizione dei pesi sui due assi creano il presupposto per una guida efficace e precisa su tutti i percorsi con reazioni che risultano facilmente controllabili anche nei passaggi più impegnativi la presenza dell'assetto agility control con sistema di sospensioni selettive che si adeguano automaticamente alle diverse situazioni di marcia esaltano inoltre la tenuta di strada permettendo al guidatore di apprezzare appieno le eccellenti doti di questa esclusiva cabrioletta grazie 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 grazie